Tentativo ammirevole, mia cara, ma non riuscirai a superare i miei campi energetici. Sono regolati sul tuo specifico DNA. Ma cosa ne sai tu del mio DNA? Tu sei dotata di buone capacità e di un temperamento tipico della tua famiglia. E cosa ne sai tu della mia famiglia? Rimarresti stupita, tesoro, per tutto quello che so io. E ancora più meravigliata per tutto quello che tu non sai. Ho quasi finito. Esattamente quanti minuti abbiamo ancora? Non molti, secondi i miei calcoli. Attenzione, ci sono intrusi. Attenzione, ci sono intrusi. Neanche un secondo. Fermi, siete entrati in una zona vietata. Arrendetevi subito o sarete eliminati all'istante. Ripeto, arrendetevi subito o sarete eliminati all'istante. Io conosco un'alternativa. Posso darti un passaggio? Certo! Gli stabilizzatori sono danneggiati. Tieni di parte. Per provare un'emozione simile avrei preferito le montagne russe di un Luna Park. Cerchiamo di sott'acqua. Attenzione! Mi basta, lattine? Ah no! Avanti, allora! Pericolo! Pericolo! Il portice è sempre stata la giornata più divertente. Sei d'accordo, lattina? Porta i miei saluti a Giove! Sacco di bulloni! Su, dimmi che hai un piano B. Preparati a nuotare. Mi piace di bene. Bravo, Mancini! Poco dopo, Connie Island. Hai i dati che ci servono? Non so se possiamo decifrarli senza i codici. Già, come temevo. Sono riuscito a scaricarne solo il 93% prima dell'allarme. Torniamo alla base e vediamo cosa riesce a tirare fuori Bromley. C'è stata un'irruzione nella centrale dei Machine Man, Tensa. Risulta coinvolto l'Uomo Ragno. Lo so. Ho controllato l'unità centrale di elaborazione. Che strano. Non sembra molto preoccupato. Ho deciso. Sono pronto ad agire. Questa può essere la mia occasione per schiacciare l'Uomo Ragno e i ribelli una volta per tutte. In che modo? Parecchio tempo fa, in previsione di un evento come questo, mi ero premurato di lasciare una piccola sorpresa a quegli intrusi attaccabrighe. Che le guardie del castello stiano all'altezza. Sì, Altezza. Padre, mi nascondi qualcosa? Ma cosa stai facendo a Kadri? Preparatevi, miei cavalieri. Il giorno della resa dei conti è arrivato. La vita di Karen dipende da noi. John, questa non è una missione militare. Senza i codici necessari, decifrare i dati di X51 è un'operazione estremamente delicata. Che sta succedendo? Che cosa c'è? Sembra un'anomalia. Non dirmi che ti è caduto il bisturi. Potrebbe essere un virus. Sarà meglio dare un'occhiata. Vedete, è questo il grosso guaio dei computer. Le medicine non servono. Non è un virus. Nel download è stato installato una specie di programma autoguida. Sta trasmettendo da quando abbiamo cominciato. Attenzione. Presto, a riparo! Riparo? Mi sa che è un po' tanto. Meglio andarsene di qui. Quanti dati hai decifrato? Forse la metà. Prendi quello che hai. Andiamocene prima che qui croci tutto! Stop!